Ciao a tutti, io sono PulsiPulsa99 e oggi vi farò vedere un semplice ma divertente trucco di magia. Allora, questo trucco incomincia con una storia e la storia è la seguente. Una volta un oste aveva fatto costruire quattro stanze per il suo albergo per forestieri e fu fortunato perché il giorno stesso dell'inaugurazione arrivarono i primi ospiti che furono gli assi e quindi li divise nelle quattro stanze. Successivamente arrivarono anche i re che vennero divisi nello stesso modo degli assi. Dopo la cena arrivarono stanchi e affamati ma anche con tanta voglia di dormire i fanti che si precipitarono subito nelle loro stanze assegnate. Dopo la mezzanotte arrivarono anche le regine che avevano appena finito la festa in maschera e quindi anche loro molto stanche e si coricarono nelle quattro stanze tutte diverse. Per l'oste si accorse che aveva fatto un gran pasticcio perché erano tutti insieme e questo non andava bene, avrebbe potuto creare dei disguidi quindi decise di mettere le cose una volta per tutte a posto. ci mise non poco tempo perché doveva accontentare tutti ma alla fine dopo varie discussioni ci riuscì e fece così e così riuscì ad accontentare tutti e vissero tutti felici e contenti come definiscono tutte le storie le fiabe spero che questo gioco di prestigio vi sia piaciuto e vi aspetto per le prossime volte nei miei video ciao e commentate chi ha capito